Un programma presentato da Buonasera e ben ritrovati a Pianeta Alma, il settimanale di Fano TV dedicato al calcio. Servono tre vittori all'alma per essere sicura di conservare il posto in Serie D, due da ottenere nelle partite che mancano alla fine della regular season e l'altra nei play-out ancora al momento eventuali perché in questa fase della stagione la squadra Granata sarebbe purtroppo in eccellenza. Che si tratti di un'impresa? Nessun dubbio, che si tratti di un'impresa fattibile, proveremo a capirlo con il conforto di Salvatore Guida, presidente del Club Granata, buonasera e bentornato. Buonasera. E di Alessandro Mancini, difensore della squadra Granata, buonasera, benvenuto. È un'impresa, è un'impresa per la quale questa squadra è attrezzata, l'ambiente squadra società è attrezzato, presidente. È un'impresa sicuramente difficile, lo sapevamo almeno da quando sono arrivato io, ma credo che la squadra ne avesse già consapevolezza anche prima che io arrivassi. È un bel gruppo, l'ho sempre detto, sono grandi ragazzi, io sono fiducioso che questa impresa possa essere realizzata da tutti quanti loro sul campo. Ha complicato le cose sicuramente la sconfitta di Sora, ci si attendeva un risultato diverso e forse anche una prestazione diversa dopo il successo sul Roma City. Vediamo le immagini di una gara in cui il Sora, che già aveva fatto qualcosa di simile contro il Tivoli, si è dimostrato estremamente pragmatico, ha colpito in pratica nelle uniche due circostanze che ha creato per andare a segno. Tra l'altro la prima nella fase iniziale del match. Alma, che forse Alessandro non ha avuto quella reazione dopo quello svantaggio prematuro che sarebbe stata necessaria? Ma allora, secondo me comunque la prestazione è stata buona, abbiamo creato abbastanza e come hai detto giustamente tu, il Sora è stato molto pragmatico e sono stati bravi loro a sfruttare le uniche due occasioni che gli abbiamo concesso. Dalla tribuna, Presidente, che impressione hai ricavato? Mi sono arrabbiato, al di fuori di questa ha ragione Alessandro, effettivamente sì, il Sora, secondo me il risultato più giusto era un pareggio, il Sora ha raccolto molto più di quello che aveva seminato, mentre invece noi non è che siamo stati spreconi, però non siamo riusciti a raccogliere quello che penso sia stata una buona prestazione, si era seminato durante i 90 minuti. Abbiamo visto l'ennesima prodezza di Gonzales, tiratore scelto quasi infallibile, purtroppo stavolta il gol è arrivato troppo tardi. Alessandro? Sì, è arrivato troppo tardi, con Sergio sappiamo che ogni calcio piazzato è una garanzia, sia calci di punizione ma anche calci d'angolo, ha veramente questo piede magico, quindi tanti complimenti. C'è un problema trasferta per questo Fano, perché tutto sommato alla fine l'abbiamo già fatto notare, in casa i risultati sono venuti, anche se non tutti quelli che ci si augurava. In trasferta nessuna vittoria, al netto di quella che è stata tolta a Fossombrone, è solo una serie di pareggi, troppo poco anche rispetto alle dirette contendenti. Certo, sì sì, sicuramente troppo poco, perché comunque i numeri, i dati parlano chiaro, non abbiamo ancora ottenuto una vittoria in trasferta e sicuramente ci auguriamo tutti di ottenerla il prima possibile, quindi direttamente domenica. Anche periodi di tempo non ce n'è tanto, è la prossima partita ad Avezzano contro una squadra in salute, viene da due vittorie consecutive, ha dimostrato di credere concretamente nei play-off che sta raggiungendo. Sì sì, è una buona squadra, all'andata l'avevamo spuntata noi, però comunque sono degli ottimi giocatori e lo stanno dimostrando, come ho già detto prima la classifica parla chiaro, non sono lassù per caso. In un finale di stagione in cui conta molto anche l'atteggiamento dell'avversario che si incontra, l'Alma in questo caso sembra dover tenere presente che questo Avezzano non vuole fare regali, non li ha fatti al Tiboli nell'ultima giornata. Alla pancia piena, ho fatto due vittorie, quindi due vittorie consecutive, ci si aspetta che magari la terza possa un attimino steccare e noi possiamo fare una prestazione come quelle che facciamo sempre, magari cercare di raccogliere quello che i ragazzi con tanto sudore e tanto impegno durante i 90 minuti seminano. Si riparte da una situazione che come possiamo dedurre dai risultati dell'ultimo turno si è fatta nuovamente molto allarmante, risultati che in questo caso, contrariamente a quanto accaduto la settimana precedente, sono stati decisamente sfavorevoli, perché lì in fondo alla classifica soltanto il Matese, peraltro in uno scontro diretto con il Termoli, lo stesso Tiboli hanno segnato il passo, hanno invece fatto passi in avanti, soprattutto il Vasto Girardi che a sorpresa ha battuto la Vigor a domicilio, questo Real Monterotondo con cui l'Alma farà i conti nell'ultimo turno, che ha superato largamente il Chieti. E classifica, diciamo che l'Alma in questo momento sarebbe purtroppo in eccellenza, perché appaiata al Vasto Girardi, avvantaggiata dalla differenza reti, però con un ritardo di nove lunghezze dal Real Monterotondo, superiore alla quota di otto, che è il limite fissato per la disputa dei play-out, avevamo detto all'inizio della trasmissione. Servono tre vittorie, due in stagione regolare, perché chiaramente, vincendo ad Avezzano e poi battendo al Real Monterotondo, l'Alma rientrerebbe presidente in questo range. Quella è la nostra speranza, che spero questi undici ragazzi ci possano regalare sul campo, ci possano rendere orgogliosi ancora più di tutto quello che hanno fatto in questa stagione, perché credo che questa stagione definirla sfortunata sia un po' poco. Quanto pesa nel rendimento della squadra, nel dover affrontare partita dopo partita, questa situazione di classifica? Ormai ci avrete fatto il callo, perché è da un po' di tempo che l'Alma naviga nei bassi fondi, ma man mano che si avvicina alla fine della stagione, si fa sentire sempre di più? Ma certo, inevitabilmente sappiamo che è una situazione problematica quella di classifica, però comunque siamo consapevoli che ancora fortunatamente è tutto nelle nostre mani, perché come hai già detto tu abbiamo l'ultima partita, lo scontro diretto contro il Monterotondo e quindi portando a casa tre vittorie manteniamo la categoria. Hai detto del Real Monterotondo, è una di quelle partite in cui l'Alma ha sprecato, perché era in vantaggio di due gol fino a pochi minuti dalla fine, ha sprecato se vogliamo anche a Tivoli, dove aveva ribaltato la situazione del recupero, in coda del recupero si è fatta riprendere, ripensate a quegli episodi che potevano in qualche modo deviare il corso della stagione, oppure in questo momento siete assolutamente unicamente concentrati sulle partite che dovete giocare? Allora, è ovvio che analizzando le partite man mano che le giochiamo, quando avvengono queste situazioni in cui comunque secondo me definirci spreconi non è il termine corretto, però sì, sicuramente dovevamo avere magari un'attenzione, una voglia di non prendere quel gol maggiore rispetto a quella che abbiamo avuto, quindi sicuramente ce lo rimproveriamo, però comunque andando avanti è inutile pensare a quello che potevamo fare meglio o di più, ma invece è molto utile concentrarci su quello che dobbiamo fare domenica. Altro aspetto che abbiamo ripetutamente sottolineato, se succede magari di prendere gol al 96esimo, se succede di prendere due gol sulle uniche azioni del Sora, e anche perché questa è una squadra complessivamente molto giovane, non a caso ha primeggiato nella classifica giovani di valore della categoria, e quindi questo è uno scotto che in qualche modo va pagato, è una giustificazione che regge, Presidente? Allora, essere molto giovani è un pregio e un difetto, un pregio perché questi ragazzi hanno da questa stagione, secondo me, anche imparato molto e sono maturati molto. E' chiaro che è un difetto perché quando gli si sobbarca una responsabilità, una pressione eccessiva rispetto a quella che la giovane età è pronta a dare, si sentono anche un attimino in difficoltà, quindi non è tanto una difficoltà di rendimento sul campo, ma una difficoltà proprio psicologica dovuta all'età molto molto giovane. Ed è per questo che io mi sono sempre sentito di essere vicino a tutti quanti loro, perché questa responsabilità che hanno avuto già ormai da una buona parte della stagione diventa sempre più pressante e quello che dici te è ancora più corretto, perché mentre si avvicina alla fine del campionato, loro la sentono ancora più forte. Quindi la mancanza proprio di una vera e propria guida che potesse dargli dei punti di riferimento, delle certezze, gli è venuta a mancare. Io cercherò in ogni caso di stargli vicino sempre, fino all'ultimo giorno, molti loro lo sanno, perché poi le verità che sono all'interno delle società non sono sempre le verità che vediamo all'esterno, quindi non sempre sono due vere verità. Loro mi conoscono bene, io credo di star conoscendo sempre meglio loro e mi auguro che poi questa fiducia e rispetto che stiamo costruendo nel tempo sia reciproco e duraturo. Ci si è soffermati spesso e anche all'inizio di questa trasmissione sul fatto che il punto di forza dell'alba, e dovrà esserlo fino alla fine, sia l'unità del gruppo, l'unità di intenti, un gruppo coeso che rema dalla stessa parte, lo ha dimostrato nella buona sorte e anche nella cattiva sorte, anche quando magari le prestazioni non sono state adeguate. È un'unità di intenti che vi sentite di garantire fino alla fine? Sicuramente, sicuramente. È il nostro marchio di fabbrica e se c'è da metterci la faccia ce la mettiamo tutti, sia nel bene che nel male. Quindi quando arrivano delle vittorie è merito di tutti, dal primo all'ultimo, tutti i compagni, tutti i membri dello staff e ovviamente quando arrivano le sconfitte nessuno è escluso. Come vivete il malumore dei tifosi, che a Suara è stato palesato piuttosto evidentemente, un malumore chiaramente giustificato da una situazione di classifica che non può piacere a nessuno, perché l'alba vede lo spettro dell'eccellenza, è un campionato regionale come l'eccellenza, non lo disputa praticamente da una vita. Certo, ovviamente il malumore che hanno i tifosi ce l'abbiamo anche noi in parte, a pensare appunto a questo scenario che hai detto tu dell'alba in eccellenza. Io personalmente cerco di non pensarci neanche, perché comunque faccio parte dell'alba da quando ho 13-14 anni, quindi non riesco proprio a immaginarlo. L'unità di intenti, la coesione del gruppo, ma c'è qualche altro punto di forza che l'alba può mettere sul piatto in questo finale di stagione, sportivamente parlando, drammatico? La determinazione e la certezza di poter ripartire insieme con una squadra e un campionato fatto esclusivamente da noi, che possa essere nostro. Riguardo alla delusione dei tifosi, è comprensibile, loro sono tifosi ed è giusto. A questo riguardo c'è anche stato uno scambio di battute a distanza, Sora, tra la tifoseria che contestava e lo stesso guida in tribuna, mi sbaglio? No, guarda, in realtà io applaudivo la tifoseria tutta perché in ogni caso li vedo sempre presenti, anche quando non ci sono risultati che possano renderli gioiosi e felici. Io avrei voluto regalargli qualcosa di diverso, che purtroppo non ancora sono riuscito a dare come mio contributo, anche perché di quest'annata c'è veramente poco di mio, forse quasi nulla. Quindi io semplicemente li ringraziavo, poi qualcuno ha detto che il mio applauso nel loro confronto era ironico e invece no, perché proprio in quel momento di ironico non avevo nulla. Ma il calcio è anche questo, quindi ci mancherebbe altro. Io li ringrazio sempre, è chiaro che poi posso avere qualcuno che può starmi simpatico e qualcun altro un po' meno, però per me sono tutti tifosi e vanno rispettati. Anche perché si tratta di una tifoseria sempre presente anche in trasferta, ora la differenza la notiamo praticamente quasi ogni domenica perché il settore ospite è stato aperto quest'anno non più di tre o quattro volte. Quindi una differenza sostanziale rispetto ad altre platee, Alessandro. Certo, però io comunque ci tengo a ribadire che i nostri tifosi non ci hanno mai fatto mancare nulla, sono stati giustamente sempre presenti e non hanno mai smesso di cantare, quindi non mi sento di dire nulla. Vediamo cosa aspetta l'Alma nel prossimo turno, la partita che l'Avezzano ha giocato a Tivoli contro una formazione che aveva fatto molto soffrire la squadra Granata. Vediamo appunto anche le partite che si giocheranno nel prossimo turno accanto ad Avezzano e Alma e Juventus Fano per quello che riguarda la bassa classifica. Ci sono Real Monterotondo, Matese in particolare, questa è la schermata relativa alle partite che attendono ancora l'Alma, Avezzano in trasferta e poi Real Monterotondo in casa. Le date fatidiche sono 28 aprile e 5 maggio, dicevamo di questo Avezzano che l'ha spuntata a Tivoli dove si è portato sul 2-0 prima che il risultato fosse rimesso in discussione nel finale dal Tivoli. Le immagini di questa sfida che si è giocata domenica scorsa che possiamo appunto seguire, Avezzano che dicevamo si è portato nel corso del primo tempo abbastanza agevolmente sul 2-0. Una squadra che all'andata Alessandro avete superato in una delle vostre migliori performance. Sì, è stata sicuramente una delle nostre migliori partite, è giusto, l'avevamo approcciata nel modo più corretto e se non sbaglio eravamo andati, diciamo a fine primo tempo stava 1-0, eravamo andati in vantaggio noi, loro ci avevano valeggiato, però nella ripresa siamo rientrati sempre col piglio giusto, molto determinati e alla fine abbiamo vinto. Il rigore assegnato al Tivoli nel finale che porterà appunto al gol dell'1-2 inutile, un Tivoli che sembra essere tra le formazioni più in difficoltà in questo momento, dicevamo del precedente della gara d'andata, allora rinfreschiamoci la memoria e magari questo aiuta la squadra anche a farsi un bagno di fiducia. La partita dell'andata con gli episodi chiave di quel 3-1 con cui l'Alma è in una fase della stagione tra le più promettenti, va sottolineato una squadra che tra l'altro aveva inserito pochi giorni prima Coulibaly, che trovò il gol quasi subito su assist di Tencorang, da distanza ravvicinata. L'Avezzano come ricordavi Alessandro raggiunse il pari grazie ad un'esecuzione anche in questo caso molto pregevole da lontano. nel proseguo della partita, la formazione allora guidata da Cornachini seppe riprendere il largo. Si va ad Avezzano, presidente guida con chiaramente l'intendimento di invertire la tendenza in questo momento, quali promesse si possono fare al di là dell'impegno, al di là del mettercela tutta, al di là del fatto che appunto ogni partita ha una sua storia, e quindi non bisogna farsi condizionare dalla classifica dell'Avezzano, dal momento dell'Avezzano e dal momento che attraversa la squadra Granate. Guardi, le promesse non si fanno perché poi quelle da marinaio non contano niente. L'unica cosa che posso dire con certezza è che l'anno prossimo l'Alma Juventus fanno, dovrà disputare un campionato di Serie D. Promesse non se ne possono fare. Ma non è una promessa ma è un impegno non da poco. L'impegno è nel lavorare affinché ciò possa avvenire, perché non è pensabile che una squadra come l'Alma possa andare a finire in un campionato di eccellenza che giustamente hai ricordato l'Alma non disputa da parecchi anni, stamattina leggevo addirittura dal 1991 quando è stata formata nelle regioni Marche il girone unico. No, in quel caso si faceva riferimento alla costituzione del campionato di eccellenza, in realtà l'Alma non disputa un campionato regionale da una vita. Quindi speriamo che quella vita non sia adesso, anche se devo dire la verità, anche se così sarebbe potuto essere, io ritengo che responsabilità questi ragazzi non ne hanno, responsabilità questa proprietà non ne ha, la responsabilità è sicuramente da dover ricercare un attimino più lontano. Però in ogni caso, quello che ho sempre detto faremo, noi cerchiamo di portare la nave in porto quest'anno, di salvare quello che è possibile salvare nel miglior modo possibile. Ecco perché a me non piace fare promesse, perché poi quelle promesse vanno mantenute. Quindi l'unica cosa che posso dire, e penso che ormai ci conosciamo bene, è l'impegno che l'anno prossimo l'Alma deve disputare un campionato di Serie D. E ci sono due modi per farlo, salvarsi sul campo, oppure percorrere la strada del ripescaggio. Continuiamo a vedere le immagini di Alma Juventus Fano Avezzano, ma parliamo nel frattempo di Alessandro Mancini, giovane cresciuto nel Vivaio Granata, che l'anno scorso ha fatto questa esperienza importante, credo formativa, al Monza. Come l'hai vissuta? Ma è stata un'esperienza molto bella, sì, sicuramente molto formativa, perché vuoi o non vuoi comunque ti interfacci con una realtà completamente diversa. Un ambiente professionistico, uno dei centri sportivi più grandi e più belli d'Italia, è stata sicuramente un'esperienza bellissima, lo ripeto. Mi sono trovato bene comunque sia con i compagni, con gli allenatori, e sfortunatamente essendo andato a Monza con la formula di prestito con diritto di riscatto, sfortunatamente non sono stato riscattato per una serie di circostanze. Però comunque l'ho vissuta diciamo con un po' di amarezza per non essere potuto rimanere là, però ci riproveremo comunque. Nel frattempo sei un under per modo di dire in Serie D, perché vista l'esperienza che hai fatto l'anno scorso, vista l'esperienza che hai fatto a Monza, qualcuno ti considera un over aggiunto, ti senti di interpretare questo ruolo? Mi fa sicuramente molto piacere, essendo un 2005 è un onore diciamo che... Ancora rientri formalmente a pieno titolo nella categoria. Sapere che la gente pensa di me queste bellissime cose mi riempie d'orgoglio. Sicuramente penso di aver dato il mio contributo alla squadra, però questo non basta al momento, quindi devo fare molto di più come tutti gli altri. Ultimamente più difensore centrale fra i tre che laterale a destra. Hai cambiato qualcosa dal tuo punto di vista? Ma allora, inizialmente diciamo avevo qualche perplessità nell'interpretazione di questo ruolo leggermente diverso, però poi comunque con l'aiuto del mister Manoni sono riuscito a capire bene come interpretarlo al meglio e credo di star facendo... Di cavartela. Sì dai, di cavarmela abbastanza bene. Difensore, ma non solo, goleador e nel caso dell'Alma di gol c'è bisogno, si sarà bisogno in questo finale di stagione perché Mancini di gol, appunto ne ha fatti già tre quest'anno, li vediamo così anche a lui rinfreschiamo la memoria e gli ricordiamo come si fa. Il primo a notaresco di testa su corner di Gonzales, manco a dirlo. Vedremo il successivo relativo proprio a questa partita con il Real Monterotondo che alimenta diversi rimpianti anche a distanza di tempo, perché era una vittoria praticamente in tasca, mentre il terzo è quello segnato recentemente contro l'Atletico Ascoli. Qui il vento ti ha dato una mano, anche se ti sei fatto trovare al posto giusto nel momento giusto. Mi ha dato una grossa mano il vento. E pure il portiere della terza di quattro. Sì, certo, dopo ci ho creduto, quindi un piccolo merito anche a me, però grossi aiuti. Attendiamo il quarto e magari il quinto in questo finale di stagione. Certo. Ringraziamo. Almeno due. Ringraziamo il presidente dell'Ammo di Vento Sfano, Salvatore Guida. Grazie. Grazie anche ad Alessandro Mancini, difensore della squadra Granata. Grazie ancora a tutti voi per averci seguito. Vi aspettiamo come sempre la settimana prossima. Grazie a tutti.